Mio papà non vuole che scelga il Marconi Come mai? Per lui è una scuola con troppi maschi Ma non sarà troppo pesante per me? Ma scherzi? Non c'è bisogno di nessuna prestanza fisica Dopo 5 anni al Marconi dovrò andare all'università? Non per forza, se vuoi puoi anche andare direttamente a lavorare Ci sono molte offerte di lavoro Non ti senti a disagio tra tutti quei ragazzi? Mi trovo benissimo, è fantastico dar loro qualche lezione Ciao! 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 Ciao!